buonasera ragazzi road to roma inter allora allora chiusa la pratica scudetto vinto dal napoli ieri con cinque giornate d'anticipo aritmeticamente è la volta di decidere chi giocherà la champions l'anno prossimo europa league conference league quindi una bella lotta questo weekend prevede tre scontri tra i vettici tre scontri diretti sembra proprio programmato appositamente ed è incredibile perché roma inter milan lazio e atalanta juve sembra che si abberga una partita non sono sbaglio quindi tutte partite decisive poi bisogna vedere sempre la juve se effettivamente se arriva terza quarta quinta sesta se effettivamente potrà andare in europa ma quello quelli sono quelle sono altre cose pensiamo a noi non affrontare una roma che ha steccato le ultime due partite sia con milan sia che col monza quindi le squadre lombarde gli hanno messo i bastoni tra le ruote per così dire e terza squadra lombarda nel giro di una settimana per la roma incredibile anche qua un'altra statistica particolare e invece per la roma ma noi dobbiamo assolutamente vincere ma comunque ma dovesse arrivare un pareggio dipende come va l'altra partita dipende come va non guardo tanto la juve non tanto ma in questo caso la lazio non tanto ma in questo caso sì perché c'è il milan quindi non so per noi nella peggiore delle ipotesi se proprio dobbiamo pensare noi non dobbiamo assolutamente perdere quindi almeno un pareggio è che il milan non vinca quindi sarebbe già una notizia oppure che se proprio deve vincere qualcuno che vinca la lazio insomma ovviamente se no vince dovessimo vincere noi sarebbe il top poi l'altra vediamo comunque non bisogna fare calcoli già adesso ancora ancora in lungo può succedere di tutto è partita che avviene prima prima della partita della semifinale di champions league quindi siamo siamo mai alle porte la prossima settimana già la prima partita dell'euro derby ragazzi arriva arrivato un momento decisivo arrivarci a questo punto tra nello scudetto scudetto ragazzi noi ci puntavamo lo scudetto il nostro obiettivo era la seconda stella l'anno scorso lo era quest'anno nuovamente sfumato però siamo in corsa con la coppa italia di nuovo e addirittura quella c'è in più inaspettatamente perciò adesso il campionato ovviamente dobbiamo conservare i primi quattro posti quello sicuramente ora siamo forse in uno stato un buon stato di forma probabilmente se a zero col verona un dice magari che che è successo in realtà basta avere la giusta mentalità poi anche il calo fisico c'è stato anche da parte nostra così come tutte le altre sarà una bella lotta parliati domani vediamo un po in zaghi chi schiererà sicuramente lukaku il barella titolari visto che sono riposati per il turno per il mercoledì quindi secondo me titolari fissi correa l'altro punto interrogativo vediamo un po in zaghi cosa cosa combinerà darmian sicuramente anche giocherà penso in difesa con acerbi e bastoni quindi formazione abbastanza prevedibile però chi lo sa perché mercoledì ci poi c'è la champions league quindi tutto tutto da decidere per in zaghi tutto da vedere ormai nessuno più e riserva parte aslani che è un mistero aslani aslani un mistero cioè puntiamo veramente su aslani o non ci puntiamo perché una partita di mercoledì vincevamo 5 45 a 0 mancava un quarto dalla fine e poi lo va a mettere proprio che mancano ormai pochi minuti e anche bellanova non so se avrà se avrà spazio quindi bellanova aslani saranno da vedere dubito che giochi che giochino domani però se vuoi far rifiatare gli altri abbiamo un go sense in meno go se vediamo un po se rientra per il derby ma forse per quello di ritorno che si è russato la spalla cosa avuto lì insomma un fortuno parecchio critico e poi il go sense sfigato quindi sappiamo che ormai potrebbe anche aver finito la stagione con l'inter comunque ragazzi domani non si deve assolutamente sbagliare se proprio dobbiamo pareggiare ci può ancora stare a roma comunque sempre difficile però assolutamente trovare la concentrazione massima e noi ci vediamo allora più tardi molto sul tardi per il gameplay di roma inter con i football 2023 quindi per chi riesce a rimanere sveglio perché non domani non si deve alzare presto gameplay in live altrimenti solo guarda indifferita come come di solito l'indomani e poi le 18 vedremo un po come andremo come andremo a finire ragazzi forza inter ma più tardi mi provano iscrivete al canale e state di bene e buon weekend ciao